Nell'avventura di oggi affronteremo la casa alta di Mandalorian e la casa alta di Baby Yoda In quella di Baby Yoda il nostro obiettivo sarà ovviamente salvarlo da tutte le guardie di Star Wars E affrontare il boss finale per scappare via da questa casa Mentre in quella di Mandalorian, grazie al potere di Baby Yoda, sconfiggeremo un boss potentissimo E otterremo delle ricompense veramente stratosferiche Mandalorian o Baby Yoda? Mandalorian o Baby Yoda? Direi di partire a Baby Yoda perché ce la c'è qui, quindi in realtà non potevamo nemmeno scegliere E' troppo carino, è troppo carino sinceramente, non c'è paragone a livello di carineria è troppo più carino Allora, wow, ma questo è un equipaggiamento incredibile E siamo subito equipaggiati oggi Pistecca di Baby Yoda però forse no No, è troppo carino, ma guardala bene Steph, è troppo carina E non lo so però, vabbè, allora armatura, fammi vedere un pochino La spada laser 26 di danno Wow, bellissimo, l'hai vista che la mia è rosa? Ma guarda che figata incredibile Che luccica Sì, 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 sì Scusa, 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 non pensavo Ferre, non pensavo Scusa, 26 di danno, cosa ti aspetti? Ferre, metà vita, pensavo T'ammazzo Ferre, Fede è brava No, Steph, tu non entri qua oggi Stai fuori Ma ho io la chiave, come fai ad entrare tu? Sfondo la porta Ma quando vai È molto semplice Allora Buongiorno Ok Ciao Baby Yoda, aiuto No, 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 no Vieni qua Ok, due colpi Ti rendi conto, ti rendi conto che hai sciottato prima me? Ma dimmi te, Steph Ferre, sono fortissimi, ho metà vita Lo so Sto morendo Te lo meriti Scusate, me ne vado Io li sto sconfiggendo Gli ho sconfitti No, ce ne sono altri due Ok, uno è andato, andati tutti, Steph Sono fallitones, mamma mia Ferre, mi hanno distrutto Ma non sai fare nulla Mi hanno spaccato la faccia, Ferre Ma facevo un sacco di danno, avevo due cuori Allora, qua si possono aprire le porte Ma non entrare perché sono delle piccole trappole È notato che è tipo un buco uno per uno Non ci si può fare nulla Quindi, secondo me, dobbiamo andare da questa parte, credo Fammi vedere Ok No, ma è chiuso anche qui Esatto No, dove dobbiamo andare? Trovate Fammi uscire però, mi sono incastrata in una porta Ferre E stavo cercando Allora, 17 Quindi, ho trovato praticamente la cesta col bottone Di conseguenza, tacchete, tacchete Perfetto E qui invece abbiamo una scala per salire verso l'alto No, 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 no Di nuovo, di nuovo Sconfiggili Corri, corri Ok E poi ti sbalzano all'indietro con i loro colpi Quindi non è semplice correre lì addosso Guarda che sono proprio forti questi, eh Sì Andiamo? Sì, sì, vai, 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 vai Buongiorno Proseguiamo Ok Allora, c'è una porta Sempre chiusa Quindi dobbiamo trovare probabilmente sempre il bottone Ok, ma qui non c'è nulla Ok, per fortuna Vai Semplice Semplice Premiamo No Col cavolo, semplice Io mangio me la loro stavolta Basta Sì, mangiale, Steph Anch'io le sto mangiando Ok, fatto fuori uno Pam, pam Dai, ormai ci siamo abituati Li sappiamo sconfiggere Più o meno Allora, Fede, guarda già qui È bella questa stanza, però No, ma c'è Baby Yoda qua Fai vedere? Guarda No Lo posso avere, Steph È troppo carino Lo voglio portare con me Se è troppo bellino Lo posso avere, no Però dobbiamo stare attenti Perché qui ci sono due guardie invece Esatto Quindi probabilmente dobbiamo capire Allora, ho trovato un bottone Ho trovato altre bistecche Ma lo senti questo rumore strano? Sì, lo sento Che cavolo è? Non ne ho idea Allora, in realtà sono due Tipo, un rumore sembra quasi di uno slime Esatto L'altro è tipo un dragone Eh, più o meno Non trovo il collegamento Tra Baby Yoda, uno slime e un dragone Quindi non penso che siano Né uno slime, né un dragone Credo, non possiamo essere sicuri Allora, Ferre, io ho un bottone Tu dove lo piazzeresti? Da Baby Yoda o dei soldati? No, ma, vabbè Anche se lo piazzo a Baby Yoda In che punto lo piazzeresti? Eh, quello è il problema In questo blocco strano Io ci provo No! In miseria Ferre, io lo sapevo Lo sapevo che l'avresti dovuto mettere dall'altra parte Ma ti hai detto tu di metterlo lì, maledetta No, io non te l'ho detto Ti ho detto sì che quello era il blocco Ma non di metterlo da quella parte Ok, Baby Yoda, ciao Ti salvo, Baby Yoda Ferre, lo fare Ferre L'ho preso davvero L'ho preso davvero I curativi di Baby Yoda Wow Ma è bellissimo Ci possiamo curare? Eh, penso proprio di sì Va bene Però comunque che strada dobbiamo fare adesso? Eh, dobbiamo trovare il posto giusto Allora, fammi controllare meglio No, lì non c'è nulla Ho controllato io Ok, possiamo provare ad uscire di nuovo Perché qui ho notato che c'era un buco Non siamo arrivati da qua noi Ho sbaglio? No, noi siamo arrivati da qua No, noi siamo arrivati da qui Quindi teoricamente lì dobbiamo scendere No, Steph No? No, 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 no Dici Ah, guarda, cavolo, me le sono accorta ora Mi ha dato delle scale Ferre Ce li hai anche tu? No, ce li hai solo tu Secondo me ce li hai anche tu Perché li ho presi io i poteri di Baby Yoda Allora, dobbiamo andare da questa parte Piazza dall'alto, eh Quel buco secondo me ci avrebbe riportati sotto Ed era solo per confonderci Steph Può essere Ok, questo è Ok, ok, non è bello Cos'è? Cos'è? Mamma mia, però è bellissimo qui dentro Sali, Steph Sì, certo Come, Fede? Come faccio? Cos'è successo? E mi stanno sparando Aspetta, aspetta, aspetta Ti raggiungo Vai, vai prima tu Ma che cavolo sono? Guarda che figata Combattiamo Ma cosa? Alieni, aiuto! Esatto Fede, no, sono fortissimi Ma se li No, non è vero Non sono troppo forti Io li sto shottando Li sto squagliando, Steph Ok Ma che belli Cioè, sono brutti e belli allo stesso tempo Esatto Esatto Uh, ma questo è il capo Però non l'ho distrutto Quindi secondo me è andata bene Steph, c'è qualcuno qua No, no Che succede? C'è qualcuno ferito Stai bene? Tutto a posto? L'abbiamo curato, credo Vedi che gli facciamo i cuoricini Ah, sì Perché sono i poteri curativi Esatto Perché abbiamo i poteri curativi Guarda Eh, ma non ci ha pagato Cura il 33% 66% È tornato Grazie mille per avermi salvato Che a te questo potere Come ricompensa Uh, ma che figata Io non sto capendo, ragazzi Oggi, è bellissimo Vai prima tu Che se no ci scontriamo C'è la chest Ok L'hai aperta? Sì Il problema Ok Ho preso le pozioni Ne ho presa una No Steph? Eh, io sono super Mica sono come te Eh, che ti devo dire Ci ho messo troppo tempo Perché io ti ho lasciato passare Riprova a riparlarci Magari ti dà il potere No, ti dico i poteri Allora Facciamo così Allora Con questa pozione Siete invisibili Agli occhi degli stormtrooper Cercate di starli alla larga Ok Io per sicurezza Ne ho preso tante Allora Io ne prendo Tu quanti ne hai Io ne ho preso tre Allora ne prendo tre pure Io le prendo tutte Ok Allora, ci siamo? Sì, prendo un altro po' di bistecche Mangio pure Steph Che ho la vita bassissima Perfetto E andiamo Ok Allora, inizio a tirarmi La pozione dell'invisibilità Sono invisibile? Ok Sì, vabbè Si vede la mia armatura Mi ha visto? Eh, Steph Dobbiamo togliarla forse L'armatura Per chi ne hai presi Aspetta, aspetta, aspetta Ok A me non vedono, eh Non è vero Mi ha visto Ma sono fortissimi Via, 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 via Ma dove sei? Non ti vedo Allora, sono di fronte a te Adesso mi rimetto l'armatura Guardami Ciao, Fere Sono scappata a gambe levate Che poi solo uno mi ha visto Gli altri no Fere, 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 Fere Non so perché uno Uno aveva la vista da falco Ci vuole pestare, aiuto Dobbiamo uccidere lo Steph Ho mangiato la super mela d'oro Dove è finito? Eccolo, eccolo Ma è fortissimo Senti che rumori E beh, stiamo combattendo con le spade laser Ovvio che fanno questo rumore Ti distruggiamo No, Steph Siamo forti anche noi, tranquillo Ai, che male però Eh, hai capito? Dai, che quasi è andato Quasi schiattato Sì, abbiamo vinto Perfetto Perfetto Ho un bottone Dove lo useresti? Non lo so Aspetta C'era un blocco strano qua, in effetti L'avevo notato prima Ok Quindi, se io faccio così Wow Abbiamo finito? È la stanza delle ricompense No, vabbè Ma che belle queste armature Fere, incredibile Prendi tutto Fere, questa casa è bellissima Prendi tutto Prendi tutto Allora, tutto questo dovrebbe essere mio Quale indosso per prima? Sono tante belle No, Fere Armatura di baby yacht Ma io non ho trovato i pantaloni I piedini Aspetta, dove sono? Ah, eccoli Allora, questa è la doppia spada laser Signori, come potete vedere Wow, wow Poi Abbiamo le varie pistole Ah, c'è anche questa Perfetto Io in realtà Voglio provare Quest'altra qui Allora Questa è troppo potente Per usare Quattordici Io uso questa Ok No Bellissimo Aspetta, aspetta che sto finendo Bellissimo Guarda che bella questa armatura, Steph Bellina Bellina No, non è bellina È bellissima Questo l'ho preso anch'io Aspetta Ma? È troppo carino Ma mi segue? R2D2 Ciao Non mi sto seguendo Ma è carinissimo Sei molto carino Allora, fammi vedere un attimino Anche questo Facciamo un attimo così Non lo volevo colpire Ho sbagliato Steph Sto morendo, per favore Ok Mi devo mangiare pure la maratona incantata Allora, i proiettili ce li ho Perfetto Però voglio rimanere a tema con l'armatura Quindi rimarrò così Anche se è meno potente Non mi frega nulla Sono troppo bello per non star così Quindi questo è il mio outfit Adesso direi che possiamo andare No, che carino, Steph Eh? Non te ne sei accorto E se tu in pratica lo primi con questa sorta di chip Non so che cos'è diventa tuo amico Aspetta, aspetta, aspetta Qual è il chip? Tieni, tieni Prendi questo Te lo do io Ok Mi pare ce ne fosse solo uno E quindi? Adesso è il nostro amico Wow È come se l'abbiamo domesticato, capisci? È troppo bello Ma è una chest Aspetta Ah No, vabbè Tieni, tieni Sono tutti regali per te Perché sei molto carino E quindi tu te lo porti in giro E metti anche i tuoi tesori Ma è bellissimo Esattamente Andiamo, forza Andiamo Allora, penso che dobbiamo salire da qua E buttarci sotto Fai rimesso gli stivali? Eh... Sì, adesso Non vuole che me l'hai detto Steph ci sta seguendo No, non ti lanciare No, no, sta bene, sta bene Ok Allora, però sei un po' fastidioso Come sei un po' fastidioso? Perché fa quel... Il mio non mi ha seguito Mi stai un po' dando fastidio Mi farei notare sta roba, Steph Mi stai irritando Sto provando le armi Che c'è? Posso? No, Steph Mi dà fastidio No, Steph, sarà bene o tutti Lascialo Il mio non mi ha seguito Comunque Ma beata, guarda Sta facendo tutto Ma forse rimane fermo lì, dai Allora Ci sarà il modo di lasciarlo fermo? Secondo me mi seguo, io te lo dico Vediamo Buongiorno a tutti Salve Ma guarda che bella però questa casa alta Ok, sconfiggini, Steph Ferre, ti rendi conto che la nostra arma fa 27 di danno e non muoio, no? E beh, è tutto proporzionato, Steph Mica siamo invincibili Mi hanno dato un bottone Eh, qua Ok Andiamo Perfetto Passaggio strano Passaggio strano Saliamo, saliamo Saliamo, saliamo Ok Sento rumori strani Quindi non vorrei che qualcosa o qualcuno Sembra un moscone con una spada laser Esatto Mi attaccasse alle spalle Quindi controlliamoci bene in giro Allora, qua c'è una porta con un bottone Eh, Steph, sei sceso giù Ma sei Sei imbecille oggi Andiamo Andiamo Buongiorno Chi c'è? Eh Aspetta, aspetta Io vi sparo No, ma spari così a vista Maledetti Ok, uno Ferre, occhio Meglio fare così, Steph No, che male Ferre, sono troppi Non ho più mele d'oro Ferre, occhio Quello il problema Ce la faccio, ce la faccio Ok Ti ho coperto alla grande Ok, continuo a sentire quel rumore strano, Steph Perché è pieno ancora In tutte le stanzine ce ne sono Ok, vediamo se ne trovo altri Allora, qua non c'è nulla Steph, c'è Baby Yoda di nuovo Ciao Allora, avete trovato Baby Yoda E ora si è nascosto nelle vostre tasche Ora il Baby Yoda vi proteggerà in caso di necessità Il passaggio è stato aperto Ma Ferre Ok Va bene Il passaggio è stato aperto Quindi vuol dire che c'è una strada da dove andare adesso Però non so, Baby Yoda, come ci proteggerà Aspetta, ci sono fuori questi due maledetti infamoni Perfetto, così Qua Sì, 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 sì Vieni, 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 vieni Arrivo, sì, le avevo viste in effetti queste scale No, 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 no Il Baby Yoda è stato sottratto Ripendete e uccidete tutti Ferre, sono morto Ok Sono morto No, Steph Sono troppo forti Sono troppi Cioè, chi può Però, allora, Steph, ho capito Ci rigenerà la vita Quindi se resisti Ah Se di Yoda ti rigenerà la vita Ok Sto schiattando, aiuto Ok, no, no Allora continuo io rispetto a te, è facile E lo so, però io li sto facendo fuori Ti rigenerà la vita e quindi Se riesci a resistere non muori mai Baby Yoda ti ha rigenerato la vita Ma Grazie, Baby Yoda, aiuto Mi stanno Ma davvero mi state seguendo più in qua Io ce l'ho fatta, Steph Sì, sì Quanti ne hai tu ancora? Uff Mi sono finito Ci sei? Sì Sono traumatizzato, Ferre Baby Yoda mi ha saluto la vita tipo quattro volte Ma mi hanno lasciato veramente con due di vita Uff Tu stai bene, sì? Sì, sto benissimo Cioè, ho anche mangiato per recuperare vita Ma sto bene Ok, dove dobbiamo andare? Ah, hai un bottone per caso? Eh, no Ho controllato bene, ma no Ma allora deve essere caduto da qualche parte il bottone Mentre stavamo combattendo Cercalo, cercalo, cercalo Apri Andiamo Hai visto dove devi testarlo? Oh No Possiamo guidare? Buongiorno Aspetta Uovo voglio l'uovo Uovo voglio l'uovo Ciao stranieri Steph ci parla State cercando di terminare questa casa alta Vi propongo uno scambio Il mio amico qua vicino a me È in grado di teletrasportarvi nella stanza delle ricompense Ma vuole l'uovo di una bestia magica Se porterete questo oggetto da lui Lui vi ripagherà Ok Dove trovo l'uovo magico? Conosco l'antica caverna Steph memorizza e segnati tutto In cui riposa un mostro magico Ok Normalmente è impossibile da uccidere I danni che infligge sono letali per chiunque Ma forse grazie al potere del Baby Yoda Che portate con voi potreste sconfiggerlo Teletrasportaci Stai pronto? Vai Andiamo Ma Faccialo qua Ok È troppo forte Ok Ho mangiato una mela d'oro Perché non mi fido di Baby Yoda No no fidati Steph Ci cura Siamo praticamente immortali Bene mia spalza È fortissimo È fortissimo Io non ho mai visto nulla insimile Aiuto Concentrati Steph È fortissimo Non è neanche a metà vita Ma stiamo scherzando Mangia una bistecca Mangia una bistecca Pere Che c'è? Attacca Ok Sì sto attaccando Che mi urli Più cattiva Pere Ci sono Devo spararlo Ah l'hai messo all'angolo Così è anche più facile da attaccare Me la d'oro Ma siamo immortali Steph Io non ho neanche me la d'oro Non muoio mai Fidati del potere Lo sto distruggendo Ok Che male Ok mi ha rigenerato Vai vai Abbiamo quasi finito Ci siamo quasi Forza Forza Pere Dai che abbiamo fatto L'hai sconfitta No non ci credo Vado io Cioè non ci credo Mi hai ucciso tu Steph Non mi uccide il mostro Non mi uccidi tu Ma dico io Baby Dio Dante ha salvato No sei tu Lascia perdere Guarda Maledetto Baby Dio Dante ha salvato Maledetto Allora Pere Ho l'uovo magico Tieni l'uovo Tieni 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 Grazie mille Abbiamo finito Bellissimo Vabbè anche qui Ma cosa sono queste cose Allora Questa armatura La voglia Ma lo shuttle Ma scusami L'armatura però È solo una Qui tra la prendi tu Ok questa la prendo Ci abbiamo già Questo la voglio Ok L'armatura la prendo Subito le bistecche Ok Abbiamo due casse Effettivamente posso Prendere quello che voglio Sì infatti Non ho capito Qua stavi pensando Esatto Ho pensato che la dovessimo Condividere Ma invece no Ok Mi piace più quella Baby Yoda ragazzi Non c'è dubbio L'armatura migliore Non la voglio provare Perlomeno la provo Eh l'ho provata Infatti ho messo un pentito Allora la rimbutto Qua dentro Non mi piace Poi Questo Fa qualcosa No aspetta un attimo Fere che questo Mi dà dei poteri Impara Ok Ma cosa Tipo questo Ah Però In realtà Ho imparato a correre Più veloce E non corso Io ho imparato a saltare Più in alto Eh sì Questo funziona Sì funziona Non si nota Ci sono lento Boh Non lo so Però imparo tutto Visto che ci sono Ok Guarda qua Ho imparato tutti i poteri Ok Io tutti quanti Questo non lo utilizzo qua Secondo che conviene Un attimino Uscire fuori Mentre le gemme Credo che Non facciano nulla Giusto Sembra di no Allora andiamo Eh sì Da questa parte Credo Non lo so Sì qua Steph Ok Gli stivaletti Ricordati Via Andiamo Let's go Perfetto Ok Quindi Guarda questa spada laser Steph Che bella Quella doppia L'hai presa? Speri ci avevamo già da prima Ti sei dimenticata Prima di prenderla Non vorrei dire L'ho vista adesso Però è bellissima Vabbè Aspetta 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 Ho anche il mio Eccolo Signori Signori Arrivederci Ti saluto ragazzi Bellissimo Ma di cosa stiamo parlando? Bellissimo Ma quanto è bello No vabbè Ma che figata Volo Volo Tra la lero Tra la la Che figo Io direi Che ci possiamo fermare così Per questo video Delle case alte Fateci sapere La vostra preferita È stato veramente Super mega bellissimo Baby Yoda Super fantastica Salute Sempre come per altri video Iscriviti al canale E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao